Buonasera da Videoline, ci troviamo al Planet di Fuori Grotta per assistere a Miss Trans Italia Over, Rea e Regina Gay, manifestazione organizzata da Stefania Zambrano per porre l'accento sui diritti del mondo transessuale e contro la transfobia. Vi lascio alle immagini. Grande successo al Planet di Fuori Grotta venerdì 9 ottobre con Miss Trans Italia Over 2015, organizzato da Stefania Zambrano in collaborazione con Luigi Papacciolo, da sempre suo amico e collaboratore. Molti sono stati gli ospiti intervenuti, Madame Verusca, la cantante Emiliana Cantone, Regina Satariano, Sara Paudicio, Miss Trans Italia 2015, Alessandra Barone, Miss Trans Europa 2015, la Drag Queen Lady Sasha, Sara Finizio, l'associazione Trans Napoli. La serata è stata presentata dalla bellissima Alessia Finizio e Ciro Muoio. Le fasce di Re Gay e Miss Italia Over sono state assegnate a Salvatore Campanile e Nadia Ottomano. La fascia di Italia Over Regina Gay a Sofia Mael. Un bacio a tutti gli amici di Videonine. Un bacio a tutti gli amici di Videonine.